Si è trasformato in un autentico happening la pericena di beneficenza voluto dalla round table di Rimini assieme al Lady's Circle in favore dell'associazione sportiva e culturale Esplora di Rimini che si occupa dal 2008 di organizzare attività del tempo libero, sport e vacanza a carattere sportivo per persone con difficoltà psicomotorie e relazionali. Una serata che ha visto partecipare nel locale presso il molo di Rimini oltre 450 persone. Una serata dove diverse realtà si attivano per dare una mano a chi ne ha bisogno, dei ragazzi con dei problemi diversamente abili e dunque anche Club 41 fa la propria parte. Ma partiamo proprio da Club 41, che cos'è? Il Club 41 è un club non di service ma che questa sera ha deciso assieme a altri club Lady's Circle e Roundtable di fare questo servizio a favore di un'associazione che si chiama Esplora Rimini. Il Club 41 è fondamentalmente un club che promuove l'amicizia e la tolleranza. È un club che è sviluppato a livello nazionale, circa 40 club, molto sviluppato a livello europeo, in Francia ci sono 300 club. Le aspettative di questo club sul territorio quali sono? Siamo intanto il club più importante d'Italia, 50 soci di cui il 70% frequentatori che di questi tempi è un risultato importante. Ma non è merito mio attuale presidente, è merito di chi mi ha preceduto ovviamente. La nostra è un'associazione sportiva e culturale e proponiamo attività di sport a tempo libero con una particolare attenzione con persone con bisogni speciali, con qualche bisogno in più. Per cui ci divertiamo a fare di tutto, la nostra attenzione è quella di adattare quelle che sono le normali attività che possono essere fatte a misura d'uomo. A misura d'uomo per noi vuol dire con i ragazzi che abbiamo, con i ragazzi che abbiamo facciamo determinati attenzione, facciamo di tutto, ci sbizzarriamo a inventarci qualsiasi cosa perché se sono cose che piacciono a noi, piacciono sicuramente a tutte le persone. Anche Lady Circle Rimini è chiamata a fare la propria parte questa sera e naturalmente partendo anche dalla consapevolezza di che cos'è Lady Circle, perché insomma sarebbe giusto raccontarlo a tutti i riminesi e non. Chi siete? Allora, Lady Circle è un'associazione di giovani donne che è presente a Rimini dal 1974, ha origine in Gran Bretagna e è nata dalle moglie della Roundtable che si sono associate. A Rimini siamo un gruppo un po' ristretto perché attualmente siamo 14 soci perché la nostra età massima sono i 45 anni, quindi arrivati ai 45 anni dobbiamo per forza, forzatamente insomma uscire. Siamo un gruppo di amiche, prima di tutto, alle quali piace mettersi al servizio, quando possibile, delle persone. Siamo insieme agli altri circoli, la Roundtable e il Club 41 perché ovviamente l'unione fa la forza, soprattutto quando i numeri sono così limitati e quando comunque è sempre più fatica riuscire a creare qualcosa per poter poi avvantaggiare le associazioni, in questo caso Explora, che hanno comunque sempre bisogno della partecipazione dei cittadini, insomma. I valori dello sport li conosciamo, credo che a volte i nostri ragazzi siano degli ottimi test, testimonial anche per noi. Quindi le emozioni che viviamo quando facciamo le nostre avventure, vi assicuro che sono avventure di alto livello perché ci permettiamo di girare in mare, di andare in bicicletta, di girare le Alpi, far trekking, l'avventura. Esploriamo tutto ciò che è bello, per noi crediamo che superare i nostri confini sia un'esperienza che poi riportiamo a casa e che ci possa dare maggiore sicurezza nella nostra vita. Lo facciamo per noi, lo facciamo per i nostri ragazzi. Questa iniziativa è nata insieme ai nostri amici del Club 41 e alla Lady Circle, che è la parte femminile della nostra associazione. È nata abbastanza rapidamente, senza troppi pensieri. Ci si è messi lì una sera e insieme si è deciso che questa iniziativa poteva venire fuori molto bene. Abbiamo individuato un'associazione ben radicata nel territorio che svolge un servizio molto concreto di aiuto alle famiglie, senza sovrastrutture, costi burocratici altissonanti, quindi ci è piaciuta l'idea. Abbiamo la fortuna di avere tra i nostri amici del Club 41 dei valenti suonatori, dei rocker di primo livello che si sono prestati e hanno deciso di suonare per noi. Si è poi aggiunto... Vogliamo ricordare chi si esibisce questa sera? Si esibisce la The Prisma Band, specializzata in rock anni 60-70-80. Poi c'è DJ Lele, che ci farà ballare tutti. E abbiamo anche un piacevole intermezzo di Sergio Casabianca, conosciuto da tutti qui nella Liminese per le sue capacità di cabarettista. Se mi guardo indietro nella mia vita, comincio a avere da un po' i capelli bianchi e vedo che mi ricordo le avventure, le emozioni, le emozioni soprattutto, del mio vissuto. Del mio vissuto ricordo le persone con cui ho vissuto questo. Ecco perché noi cerchiamo di ricreare questo. Andiamo a esplorare il mondo, superiamo i nostri confini, così riportiamo a casa un'avventura, riportiamo a casa un'emozione, è quella che ci rimane nel cuore, è quella che ci dà la forza step dopo step di avere il coraggio la mattina anche di alzarci con più forza perché comunque c'è qualcuno che ci aspetta, qualcuno col quale condividiamo dei momenti per noi molto belli.